Con la consegna dei giocattoli il giorno 6 gennaio in occasione dell'Epifania si avvia a conclusione il progetto Rigiochiamo, grazie al quale migliaia di giocattoli dismessi, ma ancora in ottime condizioni, vengono riutilizzati e donati da altri bambini. La raccolta quest'anno è avvenuta in quattro città siciliane, Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. L'iniziativa è ideata dalla 1 a 1 in collaborazione con Poste Italiane e Croce Rossa. Siamo quasi alla fase conclusiva e noi come Croce Rossa stiamo praticamente impacchettando tutti i giocattoli che i bambini hanno donato spontaneamente dopo essere stati sensibilizzati. La gioia del dare, la gioia nel ricevere un sorriso, nel pensare che questo giocattolo possa essere riutilizzato ogni anno è bellissima. Il giorno 6 nel Giardino della Legalità, dalle 16 alle 18, la Befana verrà per distribuire questi giocattoli. Ogni bambino avrà un dono, non un carbone, non il solito carbone, ma proprio un giocattolo da poter utilizzare. Le scuole hanno risposto benissimo, la sensibilizzazione dei bambini è stata veramente alta. Abbiamo raccolto, raccolto tanto, dal più piccolo al più grande giocattolo e il giorno 6 finalmente verranno dati dalla Befana in maniera tale che ogni bambino potrà ricevere un dono e non il carbone. Un sorriso che vedremo nei loro occhi ma che noi come Croce Rossa continueremo anche durante l'anno a vedere grazie alla nostra mission, una mission che portiamo avanti.